Il 16 gennaio a Novoli torna la Notte della Focara, costruita con migliaia di fascine e di tralci di vite secchi del Parco del Negro Amaro. Un evento che tra musica, arte e tradizione è diventato un'occasione di incontro tra culture e religioni diverse. È una grande festa del territorio che rievoca le radici più antiche nella nostra terra, ma è anche una festa che eleva verso l'alto. Quest'anno in particolare sotto un profilo artistico il simbolo è la rosa di Cunellis e ci riempie il cuore, ci scalda il cuore come il fuoco della Focara. Arte, musica, tradizione e modernità? Sì, abbiamo messo in condizioni la Focara di poter parlare un linguaggio sicuramente attuale, moderno, ma soprattutto universale. Ecco perché diventa il simbolo di una regione ed esprime al meglio quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche di una regione e di un popolo. La festa racconta l'identità culturale di questa terra con un evento carico di simboli legati alla cultura popolare e contadina che il maestro Giannis Cunnellis è riuscito ad interpretare nel suo manifesto d'autore e che toccherà il suo culmine nella realizzazione dell'installazione di pietra viva e ferro all'interno del falò. Bisogna mantenere, senza una volontà ideografica, ma bisogna mantenere. Questo non è che è un episodio, è uno costante di una cultura.